Un altro degli elementi fondamentali per il successo dal mio punto di vista è la definizione degli obiettivi, chiari, precisi, ma devi avere anche degli obiettivi intermedi, degli obiettivi grandi, insomma devi avere degli obiettivi. Io utilizzo proprio dei quaderni come questi in cui mi vado a scrivere tutti i vari obiettivi che vado a definire e vedi intere, ce la faccio senza spaccare il microfono, non si vede un cavolo, vediamo se riesco a... Intere pagine di obiettivi e obiettivi, quindi è fondamentale scriverteli, io preferisco su carta perché il nostro cervello lo vede più tangibile, quando vede una cosa tangibile e fisica la riesce a interiorizzare meglio, proprio anche a livello inconscio e a, come dire, apprezzare meglio, non so, non so nel termine esatto ma spero che il senso sia capito. Lavorare, muoversi, creare un'attività senza aver definito degli obiettivi è fondamentalmente impossibile, cioè tipicamente la maggior parte delle persone cosa finisce a fare? Finisce a fare quello che gli è capitato, quindi ha studiato oppure ha scelto l'università un po' che più gli sembrava sensata, ha finito il percorso dei studi e ha trovato un lavoro. Importante questa parola e, insomma, ha fatto quello che gli veniva detto e lavorava e poi va avanti così, no? Per carità ci può stare, non è che dobbiamo essere tutti imprenditori, non è che dobbiamo, come dire, avere tutte le stesse aspettative, però il fatto del, ad esempio, trovare un lavoro, secondo me non è la cosa migliore. Perché? Perché poi rischi di trovare qualcosa che non ti è affine, mentre tu dovresti cercare un lavoro e attivamente, cioè definire bene che cosa vuoi andare a fare, qual è il tuo obiettivo e cercare quello nello specifico. Cioè se il discorso è solo del, devo avere uno stipendio per mangiare, per carità, capisco, è la prima cosa da risolvere e ci può stare che inizi e trovi un lavoro così. Però se devi capire se è realmente ciò che vuoi fare sul lungo termine, sul lungo termine intendo anche magari da qui a uno o due anni, ma anche da qui a dieci, vent'anni. Perché molte persone tendono a ragionare solo sull'oggi al domani, da qui a un mese e non si pongono le domande, non si pongono gli obiettivi da qui a dieci anni, da qui a vent'anni. Peccato che se vuoi, non dico per forza fare grandi cose, io dico sempre che a questo mondo manca ambizione e quindi io dico punto a fare grandi cose, è importantissimo dal mio punto di vista. Però capisco che non tutti vogliono fare grandi cose e prendersi le responsabilità di creare magari grandi realtà. Però è anche vero che anche se vuoi fare una vita normale, magari con uno stipendio normale da mille, duemila, tremila euro al mese, insomma, uno stipendio che ti permette di vivere dignitosamente, devi programmarlo. Cosa farai da qui a dieci anni? Vorrei avere una famiglia? Che tipo di casa vorrei vivere? E di conseguenza che tipo di stipendio ti serve per il tipo di vita che vuoi fare? E quello stipendio come lo puoi ottenere? Con che tipo di lavoro? Le tue skill ti bastano? Non ti bastano? Devi capire come arrivare al tuo obiettivo. Devi iscriverti il tuo obiettivo e pianificare a ritroso tutto il percorso per arrivare a quell'obiettivo. Ed è una cosa veramente fondamentale. Il successo è far succedere delle cose e questo si fa solo con delle azioni. Se non fai azioni mirate al succedere di quelle determinate cose, è impossibile che arrivi al successo. È materialmente impossibile. Cioè il culo, il caso non esiste nel mondo del business, ma in generale in tutto il mondo non esistono persone che hanno avuto successo per caso. Magari puoi avere avuto delle coincidenze particolari, di incontri di persone, di momento giusto, di idea giusta, certo. Ma ciò che poi realmente porta al successo è il percorso che fai. Perché è pieno di persone che hanno avuto idee brillanti, si sono trovate in situazioni mitiche, hanno vinto un sacco di soldi. Ma poi perché non hanno successo e falliscono? Perché non hanno ben chiaro il percorso da fare e non lo seguono. O se hanno, magari definiscono un vago percorso e non lo seguono. E di conseguenza il successo viene a scemare. Perché il successo poi è una lotta continua, non è che arrivi a un certo punto e basta ti sedi sugli allori. No, il successo è una cosa quotidiana. Quotidianamente devi puntare al tuo successo. Che attenzione, il successo non vuol dire per forza essere milionari, non vuol dire per forza, non lo so, avere duemila case e cose così. Così, il successo è personale, è ciò che tu vuoi fare e che fai succedere per arrivare al tuo obiettivo. Quindi il tuo obiettivo, se lo fai succedere, è successo. Se non lo fai succedere, non è successo. È molto semplice la questione. Il punto è che questo obiettivo lo devi avere, lo devi definire. E sull'onda di questo ieri abbiamo registrato, pubblicato un podcast, io e Giuseppe Guastamacchia, Digital Business Talks, chiacchiere di imprenditoria digitale, che è il podcast che facciamo insieme. E niente, ne abbiamo sviscerato questo argomento per tipo 40 minuti, un'ora, roba del genere, non mi ricordo neanche quanto. Però abbiamo fatto un discorso molto compiuto. Poi è bello sentire anche magari i punti di vista miei e di Giuseppe, che siamo persone diverse, con esperienze diverse, con livelli diversi, facciamo anche dei business leggermente diversi. Quindi è interessante, secondo me, ascoltare un confronto di persone che stanno creando delle loro cose in maniera differente e quindi ognuno poi porta la sua esperienza. Non per niente la puntata di ieri del podcast si chiama Come scegliere gli obiettivi e ideare un piano di azione. Perché, come dicevo, devi definire il tuo obiettivo e a ritroso costruire il tuo piano di azione per raggiungere quell'obiettivo e farlo succedere. Quindi ti lascio al podcast, ci sono le schede varie, c'è la descrizione e tutte queste cose qui. E poi niente, per il resto noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Grazie!